Il momento che attraversiamo richiede coinvolgimento, condivisione, concordia, unità di intenti nell'impegno per sconfiggere il virus, nelle istituzioni, nella politica, nella vita quotidiana della società, nei mezzi di informazione. Alla cabina di regia, costituita dal Governo, spetta assumere in maniera univoca le necessarie decisioni, in collaborazione con le Regioni, coordinando le varie competenze e responsabilità.